bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi nel video news di oggi si parla di alcuni argomenti veramente folli e parlo di season 5 sono state un po spoilerate alcune cose che stanno per arrivare skin esclusive il ritorno di skin vecchie e forse di nuovo i nuovi og style o meglio i vecchi og style mi riferisco ad esempio alle colorazioni purple dello school trooper parliamo anche del dell'autobus di tony stark e di tutto quello riguardante halloween prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta di un'immagine veramente incredibile sbam come vedete ragazzi fortnite nella season 4 di questo capitolo entrerà ovviamente nella nel fortnight merso meglio nel periodo di halloween vi avevo già fatto vedere su instagram questa immagine che per adesso rimane solo un concept ma è davvero fatta benissimo non sappiamo se quest'anno con il fortnight merso verranno come dire verranno toccate anche tutte queste collaborazioni con marvel tra l'altro scrivendo su instagram molti di voi mi hanno detto che preferirebbero rimanesse un pochettino più alla vecchia maniera quindi non ci fossero delle modifiche riguardanti le location di marvel oppure le skin che possano avere degli stili separati sono d'accordo anche io ripeto che il fortnight merso deve rimanere una cosa a sé e quindi ci auguriamo di vederne davvero delle belle tra l'altro sappiamo che molto probabilmente verranno rilasciate tutte le skin che già abbiamo visto negli anni precedenti durante l'evento andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ieri è uscito il set di sfide per ottenere wolverine è veramente molto difficile e qua ne approfitto per chiedervi l'avete preso wolverine ce l'avete fatta devo dire che killarlo è veramente un qualcosa di complicato tra l'altro bisogna stare attenti sia a lui che ai giocatori che sentono che state sparando vi ricordo che lo trovate che bazzica tra pantano foresta potrebbe essere un pochettino ovunque quindi mi raccomando killatelo per poterlo per fare una delle sfide che vi permetterà di sbloccarlo e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questo è il vero argomento bello caldo tra i leakers sta cominciando a girare questa serie di informazioni possible upcoming things via anonymous source quindi cose che stanno per succedere da una fonte però anonima l'arrivo della ginger renegade raider durante la season 5 e tra l'altro ho un'immagine fra poco che vi faccio vedere exclusive ps5 skin confermata tra l'altro quindi tutti i possessori di una play 5 avranno una skin esclusiva exclusive xbox s skin che però non è ancora confermata anche perché diciamo che i rapporti tra microsoft ed ep games non sono mai stati proprio questo granché hanno più collaborato loro con sony con ps tra i pac e tutto quello che c'è ovviamente che sapete potrebbe esserci un altro stile per il fish stick solo che quest'ultima è abbastanza poco probabile diciamo che le cose veramente importanti sono le prime due l'uscita della ginger renegade raider confermata e la skin di ps5 la ginger renegade raider non è un caso che arriverà in season 5 perché se ci pensate nella season 5 andremo invece verso il natale e quindi anche lì ci sarà tutto il winter royal tra virgolette winter royal non inteso come l'evento che ci fu l'anno scorso ma l'inverno royal quindi le sfide le ricompense i regali bam questa è l'immagine che volevo farvi vedere davvero molto bella è un concept però è molto probabile che ci si avvicini davvero tanto all'originale sappiamo che è confermata non vedo l'ora di vederla ed un altro stile praticamente che poi in realtà è un'altra dedicata alla renegade raider andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché si dice anche un'altra notizia davvero incredibile sembrerebbe che con l'arrivo della season 5 epic games abbia deciso di dare la possibilità a tutti di acquistare le skin oggi con i relativi stili oggi mi spiego sembrerebbe che sia data la possibilità di ottenere lo stile viola dello school trooper sembrerebbe che sia data la possibilità di ottenere lo ski lo stile rosa della ghoul trooper me ne vengono in mente due adesso tra l'altro un'altra fonte che io però prenderei un po con le pinze dice appunto che verrebbe che sarebbe proprio stata confermata da epic games questa notizia è da un ut e da un membro del team di epic games che non ha voluto dire ovviamente ha voluto rimanere nell'animato ci credo un po poco a questa seconda affermazione sono molto più propenso invece alla prima affermazione che vi ho detto ed effettivamente qualcuno che è molto vicino ad epic games dice probabilmente epic games lo farà perché in realtà pochissimi utilizzano gli stili oggi delle skin acquistate in season 1 quindi ovviamente mi rivolgo a tutti quelli che le hanno acquistate non lo so non lo so ragazzi non posso confermarvi questa notizia ma sarebbe veramente una cosa incredibile quindi prendetela con le pinze e speriamo davvero di poter tutti utilizzare lo school trooper viola dopo tanti anni ci potrebbe anche stare andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché nel trailer di wolverine in realtà è stato spoilerizzato un nuovo piccone lo andiamo a vedere un po meglio nell'immagine ingrandita e come vedete la skin del samurai ora non ricordo se sia uno credo sia l'altra skin sta imbracciando doppie spade doppie katane potrebbe essere per caso il doppio piccone del di ninja ora io non ricordo se il suo piccone era convertibile in doppio non mi sembra però se qualcuno se lo ricorda è pregato di scrivermelo qua sotto dei commenti se così non fosse questo potrebbe essere un nuovo piccone spoilerizzato insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticati di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate questo pomerì domani pomerì che caspita di giorno dunque oggi è oggi è venerdì mattina mi trovate in live su twitch alle 8 ciao